Fino perché non riscaldi, non ho mai. Fino perché non riscaldi, non ho mai. Fino perché non riscaldi. Da dove vengo? Da dove vengo? Pruneta. Vengo da Impruneta. Come abitare? Veniamo da qua, dall'Impruneta. Io vengo da Impruneta. Io sono impunetisa così. Io vengo dall'Impruneta e sto andando ai bar a prendere un caffè e poi la coppia la mia mamma a fare la spesa. D'al tabaccaio e poi vado al lavoro. Poi vado là, dietro il ristorante Bella Vista. Stiamo affrettando il pollo con le patatine che tutti i sabati si viene a prendere. Niente, io vengo al bar. Vengo da casa mia e sto andando a prelevare. Questa è per andare dal medico. Andando al lavoro. Dai banchino su verde. Veniamo sempre al mercato a prendere le patatine e poi prendiamo insieme. A giocare alla casa dei popoli. A biglialdo qualche volta. Siamo stata a casa e siamo andati al caffè a Baritaglia. Congiunti siamo. A prendere Francesco, a fare lavoro e poi a casa. Io vado alla posta, poi in farmacia. Io vengo da casa, vado alla posta a pagare un bollettino, facendo un miscatto e mi fanno la finale. Sì, si invia Papa Giovanni. Io vengo dalla posta. Sì, poi vado a lavorare nella ferramenta. Poi si vede via. E vengo via a prendere i gratifici. Vengo dalla barattina. Di barattina. Di cassaline di vestigeria. E poi vado a prendere la casa. Ma non è così difficile? Buon appetito! Ma non è così difficile? Non è così difficile. Non è così difficile. Grazie a tutti.